Se voi vedete, io appartengo, sono 41 anni che vivo in Italia, sono un medico chirurgo, mi sono laureato all'Università di Padova, sono arrivato con una borsa di studio del governo italiano e poi una borsa di studio del ministro degli esteri del governo italiano per meriti accademici. Io faccio parte di una generazione di africani postcoloniale che credeva molto nel panafricanismo e era il periodo dell'Apatide in Sudafrica in cui si è superiore all'altro semplicemente appartenendo ad un'etnia, ad una razza, se vogliamo meglio chiarire che il concetto di razza fu coniato in Francia nei tempi che furono, ma si riferiva alle razze equine. Poi ad un certo punto con l'eurocentrismo cominciò a infiltrarsi nella mente delle persone e degli uomini la dottrina delle razze. In Africa, alla mia epoca, quando ero ragazzo, ero studente, c'era l'Apatide e questo serviva come una forza trainante per tutti i paesi africani. Se voi pensate un attimo che l'Africa è quello che è oggi, non perché i leader postcoloniali non credevano nel panafricanismo, ma per farse l'egoismo degli stati. Perché quando fu proposto di creare una nazione africana unita nel primo congresso dell'organizzazione africana dell'unità dell'Africa in Etiopia e in Addis Abeba, molti leader di allora bocciarono l'idea, ma non perché non piaceva, ma perché per l'egoismo ed infatti voi della generazione attuale potete essere testimoni di quello che poi è stato il saccheggio e tutt'ora lo è dell'Africa. Quello che succedeva in Sudafrica era come se succedesse in Nigeria, la mia epoca. C'era un professore universitario che poi vinse il premio Nobel, il primo per l'Africa, che era Voleso Inca, che ogni tanto viene anche a Venezia o a Roma a tenere delle conferenze importantissime. In un libro intitolato che scrisse all'epoca perché era un professore militante, scrisse, The man die that keeps silent in the face of a tyrant. L'uomo muore e si attaccia davanti al tirano. E un altro da tene lontane, un americano di estrazione libanese, Khalil Gibran, scrive che il tirano è dentro di noi, la corona, il trono del tiranesimo ce l'abbiamo dentro. Per poter agire fuori prima, devi estipare lì dentro. Sapete, per motivo l'altro, l'uomo è sempre stato diffidente. Quando avevo la vostra età, io credevo in una lotta fisica per rivedere il concetto che siamo uguali, che giudicami, mi devi giudicare per le mie azioni, non per le mie sembianze o per i miei attributi esteriori. Adesso, alle porte dei 60 anni, bisogna fare la lotta mentale, l'acqua mentale. È facile perché, sapete, è una grande prova che voi siete chiamati ad affrontare. Ma se l'Unione fa la forza, le vostre ideologie, i concerti dell'uguaglianza, perché si comincia da piccolo e con calore nella testa degli uomini. In Africa, come ha detto Spike Lee l'altro giorno, nessun paese è libero dall'arsismo. In Africa è il tribalismo ed è forte. I colonizzatori, per poter dominare meglio l'Africa, rafforzarono il concetto del tribalismo, perché è divisi, è facile dividere. E lo si fece con i Tutsi e gli Utu, dicendo ai Tutsi che avevano delle discendenze addirittura europee attraverso l'Egitto, l'antico Egitto, e cavolate varie. E quindi gli Utu erano dei Bantu. Io faccio parte dell'etnia dei Bantu. E voi pensate a immaginare un attimo questo concerto. Voi siete abituati a pensare che i cinesi, come popolo, sono il numero uno nel mondo. Ma se voi pensate un attimo che l'Africa, tenendo in considerazione anche quella della diaspora, e quello che sta succedendo attualmente negli Stati Uniti d'America per gli eventi che ormai erano levati all'esasperazione, al non poter più essere sopportati e secondati. Se voi tenete conto della diaspora africana, vi rendete conto che l'Africa, con la sua discendenza, è la prima popolazione mondiale, più dei cinesi. ma finché regna tra di noi la divisione, è difficile, se non impossibile, capire che l'Unione deve fare la forza, ma non per dominare sugli altri. Il concetto della condivisione. Quelli che sono cristiani sono abituati al detto di Gesù il Cristo, ama il tuo prossimo come te stesso, ma come ha cantato poi Loc Dube, il musicista sudafricano, non ha detto se è prossimo un bianco, un giallo, un nero. Il tuo prossimo, perché è l'essenza, è l'essenza che ci unisce tutti, la forza vitale, chiamatelo l'anima, chiamatelo quello che volete. ai miei tempi all'università, tanto per farvi un esempio, noi avevamo una generazione di africani ben preparati, avevamo delle buone scuole, dei buoni concerti. All'università di Padova molti professori si meravigliavano perché un africano riusciva a prendere 30 e lode. non eravamo uguali, perché no? Se ho una buona base di preparazione, perché non posso prendere 30 e lode? Perché no? E poi direi, ma no, ma non sono un razista, però già da esprimere un tale concetto, già, abito, perché non è tanto il razismo il problema, ma l'ideologia dietro, perché se uno si dichiara rasista, così, tout court, come dicono i francesi, dimostra la profondezza della sua ignoranza. E io vi posso garantire, avete visto quello che sta succedendo anche in Europa. Noi, l'umanità non è nata divisa dalla luna o quelli che hanno avuto la fortuna di andare fuori dal sistema terra, è un unico grande globo blu. Il concetto di nazione e il popolo è stato introdotto in un secondo momento. L'uomo viveva diversamente. Se io, spesso e volte, mi capita anche come lavoro di medico, davanti alla diffidenza di chi devo visitare? Perché mi vede l'africano e io, cioè c'è da scrivere un libro, ormai io vedo il lato comico di tutto quanto. E do, cerco di dare anche risposte comiche, perché se in quel momento lì, della manifestazione del fenomeno, riesco a correre l'occasione, perché è una porta aperta, sa, per te, è una porta aperta, è una sfida a voi, perché se voi state attenti, come un buon pugile, riuscite a trovare l'apertura per mettere un seme dentro. E la persona, a contraparte, l'interlocutore, si mette a riflettere un attimo, si mette a riflettere un attimo di quello che sta facendo e si rende conto di quanto, perché mi è capitato una volta, anche come lavoro, di andare perché l'ambulanza fu rimasta bloccata, allora non c'era ancora il 118 come è adesso. L'ambulanza è rimasta sbloccata e erano disperati, mi chiamarono da Padova di andare per sbloccare l'ambulanza, perché il signore poveretto era già andato. Era un momento di dolore ed è complessibile. Uno dei figli, un uomo, appena mi vide arrivare, perché pioveva un po', era la battaglia eterna, io mi avvicinai al cancello, avevo pagheggiato la macchina un po' lontano, la macchina di servizio tra l'altro. Appena mi vide, divenne blu della rabbia. Come ossa l'africano veniva avvicinarsi al momento del dolore, è comprensibile, ma cavolo, aspetta un attimo a sentire quello sui, cosa vuole l'africano. Via di qua, mi disse, e io mi avvicinavo con coraggio, ho detto questo mi ammazza, però essendo un Xbox 7, avevo un fisico anche io, ho detto, ma qua dovevo dire. Via da qua, via, come ossa, ho detto via. Io continuavo a arrivare, quindi il senso della sfida. Io vi sto raccontando questo, perché se voi, io non l'ho visto, è il rifiuto di vederlo. L'uccisione di Floyd, perché è stata un'uccisione ragazzi, non c'è giustificazione. Abbiamo i poliziotti là, abbiamo i poliziotti là, se noi ci comportiamo male, loro si metteranno in azione, ma non per uscirci, per neutralizzarci. Se uno parte col concetto, perché chi ha studiato un po' di anatomia, sa che se io, poi un poliziotto del genere mette il ginocchio sul collo di una persona, è tentato un uccidio, perché lo è un po' di anatomia, non ci consapevole, perché la trachea umana è fatta di